Anche Alex Zanardi, ex campione di Formula 1, oggi campione olimpico di head bike, tra i testimonial della nuova scuola di formazione degli operatori sportivi per l'integrazione sociale dei più deboli e dei disabili. L'ultima volta che ero da queste parti ricordo di aver perso una ruota della mia head bike a pochi chilometri dall'arrivo della maratona. Di sport, Alex Zanardi se ne intende, la sua vita è stata profondamente segnata nel bene e nel male dalla passione sportiva, prima dell'incidente che lo ha costretto all'amputazione di entrambe le gambe e dopo quell'operazione che l'ha consacrato campione olimpico di head bike. Lo sport cambia la vita, lo sa bene Alex a Firenze, in vesti presente della fondazione Vodafone Italia che lancia la scuola di formazione di operatori sportivi che utilizzano la pratica per l'inclusione sociale di minori vulnerabili a rischio di emarginazione oppure affetti da patologie gravi e croniche. E' questo lo scopo del progetto Educare con lo sport realizzato da Dynamo Academy Camp e Sport Senza Frontiere Onlus con il patrocino della Regione Toscana e dell'assessore Saccardi. Lo sport come occasione di inclusione sociale, di superamento delle barriere come grande opportunità per dei ragazzi di fondamentalmente sviluppare talenti che possono pure essere residui ma sempre talenti sono. Quindi grazie a Dynamo Camp e a Sport Senza Frontiere siamo riusciti appunto a portare a casa un risultato molto importante e oggi siamo qui a raccontare. Lo sport come inclusione sociale, dicevamo, è questa la missione possibile che passa dalla Toscana.